12 milioni di euro, questo l'investimento previsto per il prolungamento del canale Emiliano Romagnolo fino a Rimini Nord, fondi stanziati la scorsa estate dal Ministero dell'Agricoltura. L'avvio dei lavori è previsto per l'inizio del 2015 e la costruzione del tratto di canale fino al rio Pircio entro la metà del 2017. Le stime valutano che i due nuovi chilometri di canale porteranno acqua su colture irrigue estese per oltre 600 ettari, con un incremento di produzione lorda di oltre 4 milioni di euro. Benefici ambientali deriveranno inoltre grazie al canale dal contrasto della subsistenza e dell'ingressione salina in falda. Per fare il punto è in programma un incontro col mondo agricolo riminese con Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. L'appuntamento è per mercoledì 21 alle 21 alla Fattoria Belvedere di Bellaria, Igea Marina.